La televisione è vita nella mente della persona Quiere convertirlo in un po' interno su riso Una cardiota parecce che piensa Che agarra e non si suelta Che entrega mentiras, verdades a medias No! 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 Non è la politica, non è la base, non è così, non è il vantaggio, non è il vantaggio, non è l'artaggio. Non è il vantaggio, 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 non è il vantaggio No! Vai a conter la paratural! No! Conter la politica! No! Non mi ha pas de uno così! No! Tu mente conforme! No! 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 Grazie mille!